L'occasione è stata la presentazione del libro di Fausto Bertinotti. Antonio Bassolino ha annunciato il suo nuovo progetto per il medogiorno e preso darà vita alla Fondazione Sud con due D per garantire autonomia politica al meridione. In tal senso il governatore apre per il futuro nuove alleanze anche l'Udc e l'MPA. C'è un problema di alleanze, io ho detto la mia opinione, finito il ciclo politico dell'Unione e al tempo stesso è difficile parlare ancora di un partito a vocazione maggioritaria del 26%. Per di più a vocazione maggioritaria poi contraddittoriamente solo con una forza, con il tale dei valori. Quindi è evidente, bisogna aprire una nuova fase politica e questo sarà il tema del congresso. Ho detto, dopo il balottaggio, questo sarà il tema del congresso, di una nuova fase politica, di nuove alleanze sociali e politiche. E al tempo stesso, in questa nuova fase di alleanze sociali e politiche, io penso che sia giusto lavorare al di là anche di differenze nelle collocazioni istituzionali, di lavorare per valorizzare il metodogiorno e per affermare anche un'autonomia del metodogiorno. Il metodogiorno non può essere subordinato a Roma, a nessuno, a punto politico.